Il cambio della guardia, regia di Giorgio Bianchi, 1962, Goliath e la schiava ribelle, reggia di Mario Cayano, 1963, Il segno del coiote, reggia di Mario Cayano, 1964, Delitto allo specchio, reggia di Ambrogio Molteni, 1964, La sfinge sorride prima di morire Stop Londra. Regia di Duccio Tessari, 1965, Come svaliggiamo la banca d'Italia, regia di Lucio Fulci, 1966, Missione Sabbie Roventi, 1966, Tecnica di un spia, 1967, Ringo, Il cavaliere solitario, regia di Raffaele Romero Marchent, 1968, Beatrice Cenci. Regia di Lucio Fulci, 1969, Erika, regia di Filippo Walter Ratti, 1971, La classe operaia va in paradiso. Regia di Elio Petri, 1971, Nonostante le apparenze, e purché la nazione non lo sappia, all'onorevole piacciono le donne. Regia di Lucio Fulci, 1972, La tarantola dal ventre nero. Regia di Paolo Cavara, 1972, Cosmo 2000 Battaglie negli spazi stellari. Regia di Alfonso Brescia, 1977, Anno zero guerra nello spazio. Regia di Alfonso Brescia, 1977, La bestia nello spazio. Regia di Alfonso Brescia, 1980.